A sorpresa è stata riformata la sentenza di primo grado nella vertenza Spiaggia degli Olivi. È stato di fatto accolto il ricorso dell'imprenditore trentino Silvio Pisetta, condannando la Lido Immobiliare S.p.A. a restituire agli ex gestori una cospicua somma riconosciuta alla fine di dicembre dal giudice del Tribunale di Rovereto, Monica Izzo. Oltre 210.000 euro di spese comprese, quelle legali, di primo e secondo grado. La questione è ancora aperta, visto che l'amministratore unico della Lido S.r.L., Andrea Dalponte, alla stregua del sindaco Mosaner, che rappresenta il socio di maggioranza, ha già annunciato ricorso in Cassazione, con richiesta di sospensiva dell'esecuzione della sentenza. Il presidente Dalponte rassicura, senza le motivazioni diventa difficile capire la sentenza, ma mi pare appurato che i danni richiesti non siano stati riconosciuti. Al di là di questo, comunque, osserva ancora il presidente Dalponte, non vi sarà nessuna ripercussione sulla società e quel che interessa in primo luogo è che la Spiaggia degli Olivi sia aperta e operativa. Grazie.